Insomma l'opposizione vi farà bene? Penso di sì, anche per ridefinire il profilo, l'identità del Partito Democratico che non può essere scissa dalla responsabilità di legare l'opposizione in Parlamento al bisogno di alternativa che crescerà nel Paese e che noi dobbiamo alimentare. Non dobbiamo farlo da soli, dobbiamo aprirci. Oggi è iniziata una discussione molto importante, proseguirà nei prossimi giorni e a questa discussione vogliamo che partecipino le persone, anche quelli che non ci hanno votato e dobbiamo ascoltare anche, oltre che discutere tra di noi, le ragioni per le quali pezzi di società non hanno guardato a noi.